Siccome questo film è un film che racconta un momento importante della nostra storia e come ha detto Donatella bisognerebbe che anche i ragazzi lo vedessero, allora non dico facciamo una lezione di storia, però vogliamo spiegare qual è il pensiero di Carlo, per esempio, ai ragazzi che lo andranno a vedere, quali sono i suoi ideali, che cosa desidera? Mi rialaccio a questo che hai appena detto, spero veramente che lo vedano tanti i giovani perché questo film è per i giovani ed è un film sull'arte, sulla ricerca e riguardo a Carlo quello che secondo me spero che arrivi il più possibile ai giovani è la voglia e la presa di coscienza di fare la propria parte, cioè di non essere passivi e quindi di inseguire un sogno oppure di un principio, affermarlo non in senso utopico, cioè non come un'utopia, ma Carlo direbbe in modo scientifico, cioè lui parla del suo socialismo scientifico appunto che non si deve manifestare e completare attraverso delle leggi, ma attraverso una rivoluzione, cioè attraverso il muoversi del popolo, in questo caso quindi di agire, di muoversi e di smuovere ed è quello che mi auguro che faccia questo film. Non so se tu sei un idealista come è lui, però ecco avvicinarti a questo personaggio, a quest'epoca, a quel momento, non si sapeva bene che cosa sarebbe accaduto. Ti ha, come dire, caricato? Ti sei trovato a provare come una sensazione di ebbrezza, avvertire un'energia, anche così un maggior idealismo? Assolutamente sì, ma questo già prima perché diciamo più che autocaricarsi, diciamo da solo, è venuto dal lavoro fatto con Mario e con Ippolita, ovvero studiare dei testi va molto a sensibilizzare quello che tu già hai dentro, che però poi viene in un certo senso da te rivalutato, cioè viene rimesso in discussione e ti metti in discussione anche tu rispetto a delle cose che pensavi fossero giuste, no? E questo per esempio, secondo me, raggiunge il suo massimo nel dialogo confronto con Seibu. E quindi sì, diciamo è stato un carico continuo di emozioni ma anche di dubbio rispetto a quello che uno pensa sia giusto o no. Ecco, sei bravissima, già te l'ho detto, sei, mi sembri perfetta per questo personaggio. Ecco, volevo sapere che viaggio è stato questo film per te sia da un punto di vista proprio culturale, perché so che Mario vi ha fatto vedere dei film e anche siccome poi il personaggio si libera anche attraverso il corpo, la danza, se anche tu ballando o anche togliendoti i vestiti ti sei come liberata, hai riscoperto un rapporto nuovo con il tuo corpo, quindi intelletto e corpo. Sicuramente c'è stato un lavoro fatto su me stessa, perché a me piaceva molto l'idea di Lucia nuda, ma non solo col corpo ma con l'anima, quindi è stato un percorso che ho fatto fare, che ho fatto con Lucia in modo graduale, quindi è stato tutto molto naturale, alla fine lei da bambina diventa donna, scoprendo il proprio corpo, facendo le sue esperienze e quindi sa poi, alla fine si vede poi lei che assume consapevolezza, anche nel confronto col dottore, con i ragazzi della comune, insomma lei prende il possesso e quindi sceglie di essere se stessa e di seguire i propri sogni. Io personalmente sono cresciuta un po' con il personaggio, alla fine mi sono informata molto, ho visto appunto tanti film consigliati da Mario Ippolita, ho letto tanti libri, ho parlato anche con mia nonna, un po' anche perché l'epoca non era proprio quella attuale, quindi ho dei lunghi discorsi con mia nonna che mi raccontava un po' all'epoca com'era vivere in una famiglia patriarcale, essere così in questa famiglia così oppressiva, no? e sposarsi presto, quindi tutta questa rivoluzione che accade dentro Lucia poi le fa venire la voglia di allargarsi e di andare oltre. E dentro di te c'è un po' di ribellione, un po' di rivoluzione? Sicuramente sono molto simile al mio personaggio, nel senso che anche io come lei, perché poi interpretando una ragazza di 20 anni, e spero che tante ragazze poi si ritrovino in Lucia, ho voglia di rivoluzionarmi, di scoprire, sono molto curiosa, quindi su questo mi sono trovata molto d'accordo con Lucia, infatti è diventata la mia migliore amica.